Un messaggio alla comunità internazionale inequivocabile. I paesi musulmani si sono riuniti alla Mecca in Arabia Saudita e hanno sospeso la Siria dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica mentre tra le defezioni interne risulta da questo pomeriggio anche Farouk Shara, vicepresidente siriano e sarebbe in fin di vita il fratello del presidente Maher, ferito il 18 luglio a Damasco. L'isolamento di Bashar al-Assad da parte dei membri di governo e da parte di più di 50 nazioni islamiche è il segnale che la condanna al presidente siriano è universale. A supportare la decisione del mondo della cooperazione araba sono stati anche gli investigatori dell'ONU che in meno di 5 mesi hanno stilato un rapporto sul comportamento dei belligeranti. Le violenze da parte dei soldati del regime sono state indiscriminate, gli arresti arbitrari, violenze sessuali, saccheggi e distruzione immotivata di interi villaggi. Nessuna tutela per donne e bambini, così come l'attenzione ai civili in fuga, praticamente inesistente. Bashar al-Assad non può più essere considerato il presidente della Siria perché ha massacrato il suo stesso popolo con ogni mezzo, con i carri armati, con gli aerei e con le truppe di terra. Per l'ONU, che ha fatto sapere che la missione di monitoraggio non verrà rinnovata, anche i ribelli avrebbero avuto un comportamento simile, ma senza raggiungere quella gravità. Un miliardo e mezzo di fedeli musulmani si affianca, così, alle Nazioni Unite, per chiedere a gran voce la fine delle ostilità e la possibilità di intervenire su 2 milioni e mezzo di civili. E un appello affinché si arrivi alla fine delle atrocità è stato lanciato anche dall'arcivescovo cattolico greco Melchita di Aleppo, Jean-Clement Jean-Barre.